ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere le meccaniche di master toss o tempio del ragno master chiamatelo come vi pare e niente adesso praticamente andiamo a vedere subito il primo boss e niente man mano che andiamo avanti con il video vi spiego le meccaniche dunque allora mettiamo la schermata del primo boss così ecco adesso entriamo dentro allora appena entriamo il tank solo tanka e si deve mettere diciamo appena cialagro subito imparata poiché il boss gli farà la meccanica della giornaliera del ladro che se non si mette imparata rischia di essere one shottato ok nel mentre che il tank fa tutto ciò appena cialagro gli tiriamo tutti i manufatti tutte le cavalcature e tutto di più non appena gli avremo tolto qualche tacca una tacca e mezzo circa così inizierà a far spawnare i ragni insieme al barile ai barili anzi quindi di conseguenza il tank dopo che sono spawnati ragni si tiene l'agro del boss mentre i dps vanno a uccidere i ragni ok durante questa fase i dps potrà capitare che gli capita anche una oe rossa sotto i piedi e non devono praticamente con questa oe rossa andare dove c'è il barile altrimenti il barile esploderà e aumenteranno degli stack che faranno ricevere del danno nel tempo al gruppo e l'healer inizierà a faticare a curare ok quindi appena finiti i ragni si torna a menare il il boss e a un certo punto il boss scomparirà rilasciando tre copie di se stesso ok il tank in questo caso deve tenere l'agro delle tre copie mentre dps devono ovviamente ucciderle in tutto questo arco di tempo ovviamente l'healer dovrà curare a più non posso e cercare di mantenere la divinità nel caso del chierico una volta uccise le tre copie il boss cioè la meccanica praticamente farà o una trappola che è un pirulino rosso per terra ok oppure farà il barile rosso che esplode ok quindi farà una delle due non le fa tutte e due insieme o fa la trappola per terra o fa il barile di barile ne può fare uno ma ne può fare anche due di seguito ok quindi state all'occhio cercate di tenervi sempre la giornaliera e la cavalcatura per uccidere il barile ok quindi adesso partiamo e vediamo allora se sentite la voce sottofondo è perché la voce è in live della ram vedete ha preso l'agro gli tiriamo tutto ha fatto l'ave rossa sul tank che si è allontanato gli stiamo tirando tutti i manufatti gli abbiamo tolto un attacca e adesso ha fatto i ragni adesso tutti i dps andranno a uccidere i ragni vedete mi ha fatto l'ave rossa non devo andare praticamente sul barile ok non ero io con l'ave rossa era un altro comunque adesso torniamo a uccidere i ragni poiché non sono finiti e appena sono finiti i ragni appunto il boss farà di nuovo farà le copie se ne andrà via farà le copie come vedete si muore nel mentre perché comunque è bello tosto e niente ok sono finiti i ragni adesso dovrebbe fare le tre copie aspettiamo che le fa secondo me conviene tirare prima che fa le copie perché sono non tiriamo mai adesso qui lo stiamo ancora imparando vedete ha fatto le copie a volte c'è il tempo di tirare prima delle copie a volte invece no dipende dal danno che c'è vedete ha fatto il barile quindi tutti dps vanno a uccidere il barile possibilmente ragazzi dovete mettervi in vantaggi in combattimento quindi uno dalla parte opposta del barile in modo da fare più danno sul barile perché è veramente resistente per così dire poi si torna sul boss come vedete e torniamo a menare il boss di conseguenza rifà all'inizio giro della meccanica praticamente rifà di nuovo i ragni come vedete si muore e adesso che finirà i ragni rifarà il boss andrà via di nuovo e farà le tre copie come vedete le aoe rosse se si sa la meccanica si cerca di andare con la aoe rossa nei bordi della mappa poiché di solito i barilli non ci sono quindi se avete la aoe rossa cercate di andare a bordi della mappa oppure state fermi se vedete che nel posto vedete qui c'è il chiarico che non sapeva diciamo dove andare per un attimo alla fine è rimasto lì al centro anche se prendete danno perché vi ha fatto la rossa un altro va bene ok sempre meglio prendere danno così e morire così piuttosto che fare esplodere i barili perché altrimenti come dicevo prenderete del danno del tempo e poi faticherà a curare ok vedete qui adesso è capitata sta barra viola vuol dire che ha preso questa trappola se torniamo un attimo indietro guardate la trappola praticamente eccola è questa roba qui questo questo coso rosso qua ok questo giocatore mili tr praticamente io non ho visto ma mi sa che probabilmente gli è comparsa la trappola direttamente sotto i piedi ok quindi molto probabilmente cioè non poteva farci nulla ecco di conseguenza è rimasta stunnata se avete danni nel tempo del barile questo stun della trappola vi farà prendere molto più danno perché comunque non potete muovere non potete fare niente ok dove siete nelle mani del dealer in pratica che andiamo avanti ok adesso qui ho visto partire una giornaliera mi sa che era la non era la mia bo comunque mi sa che raga del boss ok vedete ci sono le due ore oro le due a oe rosse questo sta andando qua dove non c'è nessuna oe rossa dove non c'è nessun barile scusate e questo sta andando invece di qua che evidentemente non ci sono altri barili vediamo ok ha cambiato idea perché ha visto che c'erano i barili qua qui e qui e per non rischiare di andare nel mezzo e farli esplodere ha preferito tornare qui dove non c'è nulla lui invece non si è spostato qua sul lato sinistro perché adesso non lo vediamo però magari dalla sua visuale ha visto che c'era un barile qua no e quindi ha preferito rimanere qui al centro dove siamo tutti vediamo un po come come va avanti esatto è così adesso dovrebbe andare via fare le copie se non erro ok stiamo tirando tutto vuol dire che forse le copie l'ha già fatte ok questo sono io vedete mi sposto qui e cerco anche di non sovrapporre la oe col tank ok ha fatto i ragni il tank come vedete tiene sempre il boss e noi andiamo a uccidere i ragni ovviamente come vedete c'è una gran confusione e guardate adesso come ci durante questa gran confusione guardate ha fatto due a oe vedete ecco una e due all'inizio si andava in gran confusione si andava in panico con questa oe e per non colpire gli altri giocatori ci si spostava diciamo un po a caso e molto probabilmente si colpiva il barili il problema è che quando così un barile esplode per colpa di una oe è molto probabilmente se ci sono barili vicine esplodono anche gli altri quindi qua vedete c'è gas a sè stante quando esplode un barile qui si accumuleranno gli stack e se si arriva a 5 praticamente si può anche abbandonare poiché il danno nel tempo è esagerato e leader non riuscirà a curare tutto il gruppo ok qui praticamente non bisogna andare in panico bisogna vedete ci sono un barile qua un barile qui un barile qua e se ci fosse un barile qui basterebbe non andare in panico e stare nel mezzo qui dove non c'è nulla ok mentre quest'altro giocatore vedete che c'ha la oe proprio sopra il barile si sposterà adesso dovremmo andare giù in basso qui a destra per non far prendere i barili andiamo avanti vedete vedete che si è spostato lui è rimasto in mezzo la qua c'è la trappola c'è una gran confusione diciamo che quando non sai le meccaniche è molto complicato perché ti sposti un po' a caso no però quando impari le meccaniche e non vai soprattutto in panico durante tutta questa confusione sai ti rendi conto che c'hai quattro barili intorno a te meglio stare fermi senza andare con la oe rossa sopra i barili e non succede nulla ecco invece chi non lo sa va e va in panico si sposta e per sbaglio fa esplodere un barile poi può capitare può capitare che magari ci si sposta in una zona pulita dove non c'è nessun barile e poi mentre sta per esplodere la oe il barile compare all'improvviso e mi è successo anche di questo vedete io cerco di non andare in panico mi guardo intorno vedo se c'ho barili attorno a me e poi mi sposto di conseguenza qui mancano tre tacche adesso c'è la fase penso delle tre copie forse ok no ho fatto la trappola probabilmente no ok ho fatto le le copie ok adesso dopo le copie farà o il barile o di nuovo la trappola ecco il barile laggiù in fondo vedete io lui va dietro e io sto davanti per dire in modo che abbiamo vantaggi in combattimento adesso ne abbiamo fatto uno ma probabilmente ne potrebbe fare un altro di barile che non vedo ok forse non è adesso forse dopo comunque finiamo di uccidere le copie le tre coppie adesso vedete io mi sposto qui non c'è nulla a volte compara un barile a caso tipo dove ero io in quel momento che non c'era nulla compara un barile a caso ok tornato il boss si ritira tutto manufattica eccetera mi raccomando tenetevi le giornaliere per i barili e vedete adesso dopo un po di praticità riusciamo a non andare in panico e non andare con la oe sopra i barili no però a volte capisco che è un casino e non ci si sa dove andare e si fa esplodere il barile ricordatevi ragazzi meglio far meglio morire per una oe rossa e che ci one shotta che per una e rossa che ha fatto esplodere un barile quindi è meglio per dire portare una oe rossa sopra un altro giocatore faccio per dire proprio in casi estremi e fargli prendere danno e far morire lui piuttosto che spostare la e rossa per non prendere nessuno dei compagni e per sbaglio prendere un barile ok ok lo stiamo per fare e adesso passiamo al secondo boss per quanto riguarda secondo boss vi ho fatto il video ieri più o meno di dove si piazzano le aoe rosse giganti ok e adesso andiamo praticamente partiamo il tank solo agra ovviamente e si tira tutto ok oppure alcuni gruppi prima di tirare tutto aspettano che faccia un paio di aoe poiché di solito fa un paio di aoe rosse e poi la gente tira tutto dipende dal gruppo quindi vediamo come va allora la gratto ok vedete che ha fatto la oe e io mi sposto subito instant perché la oe fa un sacco di danno quella lì ti poi ti spinge ti butta per terra insomma non rottura e quindi preferisco rotolare via fare meno danno ma essere diciamo libero di muovermi ok le ragnatele fanno danno queste qui per terra quindi eventualmente schivatele vedete di nuovo raggio io mi schifo lo schivo e poi continuiamo a menare arrivati a due tacche qua ci si divide praticamente all'inizio io non ve l'ho detto anche l'ho detto nel video dell'altra volta però ci si divide tra dps uno sceglierà il lato destro uno al sinistro uno starà al centro ok ci si divide per uccidere gli alberi le piante ok quello quella destra ucciderà le le piante di destra quello nel mezzo le piante di mezzo e il dps di sinistra le piante di sinistra ok quindi adesso arrivati due tacche fa le piante e ci si splitta appunto in questi settori qua vediamo allora vedete io vado tutta a destra inizio a uccidere la prima pianta uno o due riesco a ucciderle se eventualmente me ne fa due o tre insieme no e quindi uso la cavalcatura ali ok non sto mai sopra le auero le le ragnatele una volta fatte ecco aspettate un attimo ok una volta fatte queste piantine si torna dal boss a menare il boss ok qui potete vedere in questa parte qui potete vedere i due fantasmini le due anime se notate hanno vita poca molta poca vita un 10 per cento di vita per così dire e queste anime vanno curate dall'healer nel caso del chierico io gli altri gli altri healer non so quali poteri debbano usare per esempio il warlock e il bardo e il paladino healer non so quali poteri funzionino per curare le anime ma so che per quanto riguarda il chiarico deve usare o il suolo santificato per curarle oppure il potere a volontà allenire altrimenti non curerà le anime ok come vedete adesso queste anime sono semplicemente con la vita bassa quindi se basterà semplicemente curarle a volte capita che queste anime qui abbiano uno scudo rosso cioè chiamiamolo scudo con la vita rossa ok questa vita rossa questo scudo va distrutto altrimenti qua salgono gli stack vedete qui forza del rito 2 se noi non liberiamo queste anime dalla vita rossa no per così dire salgono le stack e poi quando il boss urlerà dal centro quassù farà molto più danno allora andiamo a vedere cosa succede scusate la pixelata purtroppo il computer è quello che è ok vedete ha tirato il suolo e le ha curate adesso torniamo dal boss tiriamo tutto rifacciamo il giro manufatti giornaliere eccetera e adesso vedete ha fatto queste aoe giganti io mi sposto nel mio lato a destra questo l'ho spiegato ieri nel video come spostare le aoe e adesso qui lo vediamo messo in pratica quindi vedete uno torniamo un attimo indietro allora uno andrà qua su come vedrete e l'altro andrà in basso diciamo verso l'entrata del della sfida del secondo boss guardate adesso fa le aoe giganti vedete queste sono tutte e due sovrapposte e vedrete uno che andrà su e uno che andrà giù vedete che si splittano un andato sotto là e l'altro non lo vediamo ma è andato in alta sinistra in alta sinistra ovviamente guardando il palco da dall'entrata guardando il palco qua in alta sinistra ok una volta splittate le due aoe giganti si torna a menare il boss e si scrivono queste aoe guardate qua allora qua adesso arriva una aoe rossa e un raggio che parte da quassù qui compare una aoe rossa e qui parte il raggio che colpirà qua magari l'avete anche già visto però per chi se l'è perso lo andiamo a vedere questa aoe rossa che vi faccio vedere adesso va sempre schivata quindi e state attenti ai vostri piedi perché se guardate al boss non guardate i vostri piedi solitamente ok se guardate le skill se le avete pronte se avete pronta la giornaliera tutte le cose che guardate vi distraggono da non guardare la aoe sotto i vostri piedi ed è quella la cosa più importante perché voi dovete schivare questa aoe magari non vi one shotta però vi toglierà un sacco di vita e ad ogni modo in ogni caso nella maggior parte dei casi sta aoe one shotta quindi io vi consiglio sempre di stare molto attenti a questa piccola aoe e di schivarla e se non c'è niente che per esempio state aspettando che compaiano gli alberelli non state fermi perché comunque la aoe rossa è sempre pronta a colpire all'improvviso anche dopo il raggio gigante che voi portate tipo nell'angolino quassù uno appena va via la aoe gigante non rimanete fermi passivi ad aspettare che dobbiate fare qualcosa perché se guardate da un'altra parte in realtà vi ha fatto magari la aoe rossa sotto i piedi andiamola a vedere adesso eccola vedete il chiarico l'ha schivata e è arrivato subito un raggio esplosivo adesso questa è un'altra vedete e queste vanno schivate tutte non incolpate al tank se vi fa queste aoe perché a lui non c'entra nulla ed è randomico ok ok qua vedete lui è andato a destra a far esplodere la aoe gigante qua e l'altra è andata a sinistra se ero io praticamente io sarei dovuto andare in basso qua a sinistra a destra ok dopo lo vediamo ok abbiamo tolto quasi due tacche ogni due tacche rifa gli alberelli e riparte la meccanica ok ok ha curato le anime però a volte adesso io non l'ho visto ma a volte capita che appunto le anime che deve curare hanno una barriera che al momento io ancora non ho visto infatti è spawnata direttamente con la vita bassa a volte invece spawnano con la barriera che dobbiamo distruggere per poi curare le anime ok non sono io qui con la oe rossa vedete loro si splittano sempre in in alto a sinistra e in basso a sinistra poi torniamo a menare il boss e adesso ha due tacche scriviamo sempre la oe rossa torniamo nel nostro reparto io a destra chi nel mezzo e chi a sinistra qua ok vedete ci hanno avuto la oe io non potevo andare a menare gli alberelli perché appunto c'era la oe però rimango comunque nel mio settore poi mi giro adesso dovrei girarmi credo per vedere se ci sono ancora alberelli ok no però ogni tanto comunque giratevi perché magari pensate di aver ucciso tutti gli alberelli ok vedete sono io ok qui siamo in due allora qua siamo in due guardiamo allora adesso fa raggio a me e a marco e andiamo tutti e due a destra vedete uno sono io e questo è marco ok lui andrà in alto a destra e io invece vado in basso a destra le due a oe come dicevo nell'altro video non si devono cioè non dobbiamo farle sovrapporre sotto i piedi dell'altro ok quindi io non devo fare la mia non devo mettere la mia oe sotto i piedi suoi e viceversa lui non deve mettere la sua oe sotto i piedi miei andiamo a vedere come ci dividiamo nel mentre eccola questa è a destra e l'anima che c'ha lo scudo vedete tutto rosso viola praticamente non appena noi avremo avremo splittato le due a oe giganti dovremmo menare l'anima per liberarla da questa da questa barriera in modo che poi l'healer curerà l'anima sono sempre due l'altra è qua giù vedete si vede proprio la barra rossa qua ok andiamo a vedere vedete ok non è marco ma è un altro che di là ok si è un altro vedete però vedete io non ho marco è andato sapendo che lui deve andare in alto a destra e io in basso a destra se l'avevamo io e lui vedete che la mia oe non va sotto i piedi suoi e lui stando lassù la sua oe non arriva a colpire i piedi miei quindi va bene così com'è ok però in questo caso la oe ce l'avevo io e un altro di là a sinistra che è andata a sinistra io pensavo l'avesse marco comunque vedete non è morto nessuno e andiamo a uccidere la barriera del del fantasmino e adesso l'healer lo curerà stessa cosa di qua uccidiamo la barriera del fantasmino oh dai stavo colpendo l'anima e appena sarà libero dai dalla barriera rossa lo cura esatto ok adesso ti ritiriamo tu dovremmo ritirare tutti ma non fa vedete adesso ce l'ho io e ce l'ha anche marco guardate ok adesso non si è visto perché comunque lui era dietro vedete qua adesso qua non si forse non lo vedete il nome però qua c'è scritto marco in bianchetto legge in leggero bianchetto io sono andato tutto a destra lui invece è andato in basso a destra ok gli altri tre invece sono andati a sinistra perché era la zona libera dalle due oe poi torniamo a menare vedete se non scriviamo la oe si prende un sacco di danno con queste esplosioni qui abbiamo uno stack come potete vedere qua quindi siamo messi bene perché abbiamo tre tac ci mancano tre tac abbiamo uno stack vedete qui abbiamo ci siamo sbagliati o io andavo in basso da non prendere a marco o marco andava a sinistra però ci siamo confusi perché comunque tra una roba e un'altra alla fine può capitare che ci si sbaglia e si e si si scazza praticamente purtroppo l'ho fatto morire perché lui è venuto dal mio lato oppure io non ho pensato di andare qui in basso a destra in modo da non prendere lui che stava in alto a destra ok vedete qui c'è la barriera la rimaniamo in due ci mettiamo uno davanti all'altro e facciamo vantaggi in combattimento così da tirare giù la vita rossa più velocemente poi torniamo a menare il boss e adesso se abbiamo i manufatti non li dobbiamo tirare perché vedete qua siamo a tre tacche e praticamente a due tacche lui farà gli ultimi alberi e non conviene tirare i manufatti perché conviene tenersi tutti i manufatti tutte le cavalcature per la fine diciamo per l'ultima tacca e mezzo in modo che poi se manca poco ci fa più danno tirando tutto e magari riusciamo a ucciderla perché alla fine comunque fa sempre un po' da matti secondo boss e come vedrete poi ci andrò anche a morire perché inizia a fare tutto insieme alla fine anime o e alberelli non si capisce più niente vedete si sono divisi io sono andato al centro sto giro e loro destra e sinistra con le oe giganti poi torniamo a menare il boss ok qualcuno ha tirato il manufatto non so chi però forse il healer non lo so infatti lo dico anche non tiriamo niente perché adesso fa gli alberelli vedete in modo che abbiamo tutti i manufatti e le cavalcature per dopo adesso uccidiamo tutto qui vado a destra così ok uccidiamo tutto adesso possibilmente se lo facciamo in tempo vedete qui gli stack aumentano due stack ok vedete io mi sono girato e mi sono ritrovato la piantina giratevi sempre vedete che poi mi ha fatto subito la oe rossa guardate io mi giro e scopro di avere una piantina giratevi sempre perché perché non è detto che le avete uccise tutte inoltre mentre sto per uccidere la piantina guardate sotto i piedi perché mi compare subito la oe rossa quella che dico che dovete sempre schivare vedete e io la schivo appena in tempo adesso la oe rossa gigante non fa niente vedete per esempio qui non ha potuto andare non è potuto andare a destra il giocatore perché era strangolato dal boss non sono io vedete guardate qua si si vede a malapena però c'è il boss che sta strangolando il giocatore con la oe rossa gigante quindi quello che è libero sta andando tutta a sinistra questo qui dovrebbe andare tutta a destra che è milli che purtroppo non ci può andare perché appunto è strangolata di conseguenza la oe gigante rimane qui di conseguenza noi ci dobbiamo adattare ed evitare la oe rossa gigante lo strangolamento lo fa dalle due tacche in giù adesso gli tiriamo tutto schiviamo possibilmente tutto vedete che piano piano scende un po' più velocemente perché abbiamo tirato tutto vedete l'ha strangolato al tipo si sono splittati in un modo o nell'altro per così dire siccome era al centro il marco che era strangolato qui abbiamo Nico Valknut il Chierico che è andato in basso al centro non si sono sovrapposte le due oe credo e il tank e milli sono andati a sinistra mentre io sono andato a destra così io il tank e milli siamo liberi dalla oe gigante non veniamo colpiti e loro non si sovrappongono l'un l'altro poi adesso io qui mi soffermerò a menare l'anima ok che secondo me non è sbagliato perché comunque manca ancora una tacca abbiamo quattro stack che comunque non sono poche e quando urla in ogni caso fa un sacco di danno con quattro stack quindi io mi sono soffermato a uccidere la pianta anche se potevo lasciar correre e andare a menare il boss siccome appunto mancava poco magari riuscivamo a ucciderlo ok e invece poi rimanendo qua alla fine arrivo tardi a uccidere a menare il boss e poi ci muoio male credo vediamo io ormai sono qui a fare l'anima vedete questo è nico che è il chiarico che dice no no menate al boss menate al boss perché vedete manca poco più di mezza tacca io lì ormai stavo menando e poi ho appena detto ho guardato la vita ok dai vado a menare al boss magari lo tiriamo giù adesso ci muoio male perché non vedo nulla credo preso dalla fuga di ucciderlo mi sono completamente perso delle meccaniche vedete l'hanno fatti in tempo a fuggire dall'altra parte erano tutte e due a sinistra e comunque l'abbiamo fatto ok quindi spero che abbiate capito bene la meccanica del secondo boss e qui siamo al terzo boss allora entriamo praticamente come sempre manufatto e tiriamo tutto tranne poi dipende da voi io a volte tiro la giornaliera sul boss e mi tengo la cavalcatura per il cucun a volte invece mi tengo tutte e due a volte invece tiro la cavalcatura sul boss e mi tengo la giornaliera sul cucun dipende da un po' da come mi gira da come vedo che va la run ok? comunque entriamo il tenkagra e e tiriamo diciamo tutto a parte giornaliere e cavalcature ok? e poi farà farà due raggi farà due raggi ci saranno due ragni che faranno i raggi rosso e verde che io adesso vi spiego la meccanica di base praticamente se se siete con un gruppo random che non li conoscete che vi hanno invitato nostra o così usate questa tecnica ogni dps qui siamo marco milly ed io in questo caso tre dps fino a metà vita ognuno di noi tre dps prende sia un raggio rosso che un raggio verde ok? quando arriva metà vita il tenk noi non prendiamo più niente ok? quindi il tenk prende tutti i raggi rossi e l'healer prende tutti i raggi verdi da metà vita in giù ok? questa è la meccanica base poi dopo vi avevo anche spiegato non so se l'avete visto però ci sono anche un altro tipo di meccaniche dove praticamente l'healer l'healer prende sempre tutti i verdi dall'inizio mentre i i tre dps prendono tutti i rossi fino a metà poi da metà in giù della vita i rossi li prende tutti il tenk e l'healer continua a prendere tutti i verdi ok? sempre dall'inizio e questa è la seconda modalità terza modalità però questa terza modalità vale solo se il gruppo fa i buchi se fa una mareana caterva uno scatafascio di danno ok? se fa uno scatafascio di danno allora funziona che il tenk prende tutti i rossi dall'inizio fino alla fine e l'healer prende tutti i verdi dall'inizio fino alla fine ma questo solo in caso ci sia una marea di danno perché essendoci tanto danno anche se prendono tutto il tenk e l'healer non ne prenderanno tanti di questi raggi poiché essendoci tanto danno la vita scende più veloce e loro prenderanno meno raggi di conseguenza avranno meno stack di debuff ok? diciamo che per i gruppi medi meglio le prime due modalità di meccaniche ok? tutto questo fa il cucun che praticamente è il bozzolo che blocca un giocatore e va liberato tramite tutto quello che avete possibilmente giornaliera potere incontro cavalcatura quello che è perché ci mette veramente poco a one shotare un giocatore basta perdersi un attimo che non c'è più tempo per uccidere il cucun ok? poi poi altra meccanica da metà vita in giù fa un AOE verde tutte intorno quindi si sta tutti al centro più o meno e allo stesso tempo al centro fa delle piccole AOE rosse che bisogna sempre evitare se ci state anche solo un secondo e mezzo in queste piccole AOE rosse morite seduta stante ok? quindi queste sono le meccaniche del terzo boss sono molto semplici e facili solo che quando lo fate per le prime volte c'è una confusione della madonna e quindi è andata a morire male ma se avete ben presente quello che dovete fare e avete focalizzato le le meccaniche allora riuscite anche a farlo senza morire poi vabbè qualche morte ci può stare per sfiga andiamo a vedere allora entriamo dentro allora vedete lo agra noi tiriamo tutto non andiamo sopra la OE rossa tiriamo tutto abbiamo detto e vedete io non tiro la giornaliera credo e invece si vabbè e adesso dovrebbe fare il cocoon a momenti quindi userò il mio ecco lo vedete quando fa il cocoon con molta probabilità il boss si sposta vicino al cocoon e quindi è un po' una rottura perché potrebbe capitare capita anche abbastanza spesso che il vostro tunnel vision ovvero offuscamento della vista oppure la giornaliera o qualsiasi cosa voi usate per uccidere il cocoon in realtà andate a colpire il boss ok? quindi state attenti e cercate di mirare bene il cocoon un'altra cosa che riguarda il boss è vero che il tank agra il ragnone questo qui però il dragno salta salta tipo da qui a qua oppure da qui a qua su insomma va un po' dove gli pare ok? la barra rossa dell'agro magari rimarrà sempre sul tank ok? però lui il boss in ogni caso ehm salterà sempre a random dove gli pare ehm altra cosa quando vedete che c'è il cocoon e il boss è vicino al al come si chiama al cocoon cercate se riuscite ehm di se siete il tank di portarlo via tipo che ne so siete un paladino gli lanciate sgominare gli lanciate ehm promessa di ostilità girate su voi stessi per sfruttare ehm l'anello che quando correte create minaccia ehm cercate in ogni modo di creare più minaccia in modo che ehm si stacchi dal cocoon e e i dps riescano a menare meglio il cocoon non evitare che qualche colpo vada sul boss ok non state passivi ehm ad aspettare che il ragno venga da voi fate qualcosa girate intorno oppure avvicinatevi e poi a menarlo e poi vi riallontanate in modo che vi segua ehm cercate di allontanarlo dal cocoon ok ok abbiamo ucciso il cocoon ok adesso lo ameniamo e adesso inizia a fare ehm iniziano a comparire i ragni giganti allora vediamo ok ha due tacche iniziano a comparire vedete i ragni giganti questo qui è il raggio verde e solitamente lo prende l'healer ok però noi stiamo usando la tecnica che prendiamo un rosso e un verde a testa come 3 dps e poi come dicevo da metà in giù tutti i raggi rossi li prende l'healer e il tank e tutti i raggi verdi li prende l'healer quindi vedete questo è Marco cal dps che va a prendersi il primo raggio verde poi andrà a prendersi il raggio rosso se riesce ovvio che se lui è qui il raggio rosso e di là ci andrà qualcun altro vediamo allora un'altra cosa se il cucù lo fa sul chierico e al momento stesso fa il raggio verde che dovrebbe prenderlo il chierico faccio per dire ci sono alcuni casi che vi dovreste anche sacrificare tipo se siete il tank magari andate voi a prendere il raggio verde anche se non dovreste faccio per dire perché il raggio verde ridà la vita al boss quindi il raggio verde va sempre preso a prescindere ok mentre il raggio rosso fa fa un'esplosione che fa prendere danno ma poca roba allora andiamo avanti vedete che è andata a prendere il raggio noi continuiamo a menare il boss e poi ha fatto il cocoon io mi sgancio dal boss e vado a uccidere il cocoon l'hanno ucciso gli altri perché gli hanno tirato sicuramente il tunnel vision ovvero il fuscamento dalla vista e poi adesso c'è il rosso vedete c'è andato qui eh praticamente mi sa che è milly che sta andando a prendere il rosso eh si era milly adesso qui tiriamo tutto e ci teniamo sempre eventualmente giornaliera e cavalcatura non li uso non li uso non li uso io non uso niente tengo tutto perché a volte quando c'è un cocoon come in questo caso mettiamo che sia il primo ehm e io lo devo uccidere io lo uccido e uso il tv no? cioè nel senso mi metto a menarlo e uso il tunnel vision offuscamento della vista oppure il rospo gigante no? la cavalcatura del rospo che fa 3000 di proporzione può capitare che in realtà non uccido il cocoon ok? quindi magari ehm un altro dps che lo sta menando insieme a me mi dà una mano e usa il la cavalcatura usa una giornaliera quindi ehm può capitare che al secondo cocoon come in questo caso io dicevo se avete sentito io dicevo io non tiro niente tengo tutto perché probabilmente nel primo cocoon avevano tirato più cose gli altri giocatori due dps marco e mille ok? quindi ehm se loro non hanno nulla da tirare io ehm dicendo così ho sia la giornaliera se non bastasse c'ho pure la cavalcatura e viceversa se i tiro la cavalcatura se non basta c'ho pure la giornaliera ok? ah ero io col cocoon ok? si spegne la tv si spegne pure la tv si spegne pure la tv si spegne la tv ok raggio ed è verde lo sta andando a prendere no è rosso che lo sta andando l'ha preso Marco se appena lo vedo e adesso dovrei andarlo a prendere io il raggio se riesco ecco il verde vado vado a prenderlo io vado a prenderlo io vado a prenderlo io se l'hanno già preso il verde sia mille che che Marco gli altri due dps non è il caso di far dire prendere un altro poiché poi magari avranno troppe stack che faccio per dire ok? quindi meglio una testa piuttosto cioè non ragionate ah io faccio prendere il raggio così faccio più danno nella classifica capito? cioè dividetevi le cose altrimenti poi morite male perchè basta un dps che non c'è che fuori e falite molto probabilmente ok andiamo avanti allora ecco il cucun poi se siete in parti se siete in parti ve lo dite tra di voi no? che c'è il cucun se non siete in parti invece se guardiamo il chierigo ok adesso gli farà il cucun che è qua adesso si sposta fino a qua vediamo ehm vabbè adesso ci arriviamo ok adesso lo blocca allora vedete qui vedete qui sono comparse tutte le scritte eh lui ha messo una percentuale c'è chi scrive C c'è chi c'è chi mette la G ehm però il concetto qual è? qua nella chat prima di affrontare l'ultimo boss andate in gruppo ok nella voce gruppo o nella voce parla ehm eh e fate una sfidza di lettere ok? scrivete una roba lunga ok? non serve così lunga però ehm scrivete una roba lunga in modo che ci si accorga che che c'ha il cucun eh il giocatore che è bloccato ok? perché magari le prime volte non ci fate caso siete presi dalla fuga di minare il boss ehm e non vi accorgete che qua il tipo vedete io sono qui in realtà ehm sono da qualche parte qui ehm eccomi sono qui se io ero preso dalla fuga di minare il boss io guardo al boss no? ovviamente di conseguenza non guardo quassù e invece comparendomi questa scritta ehm tutte le percentuali che ha scritto il Chierigo io mi accorgo che c'ha il cucun ok? mi raccomando scrivetelo sempre in gruppo nella chat o in parla perché sono gli unici due dove le lettere compaiono anche nel nel campo di gioco ok? se lo scrivete in coda in gruppo coda per esempio le lettere qui sopra la testa non compaiono ok? comparirà soltanto la scritta nella chat ok? quindi andiamo a uccidere il cucun vedete io ho tirato la giornaliera non è bastata poi vabbè non non l'ho menato con il potere a volontà in modo da far proccare qualcosa di più però per andare di fretta ho provato a tirargli la giornaliera e vedere se riuscivo a fargli più male di quello che pensassi invece non gli ho fatto cioè gli ho tolto sì però non è bastata in quel caso lì avrei potuto tirare anche la cavalcatura ecco poi quando i manufatti eh di tutti i giocatori sono pronti si tirano di nuovo tutti i manufatti e e ovviamente se si si tiene da parte la cavalcatura la giornaliera poi siamo arrivati a metà vita come vedete è iniziato a farla diciamo la seconda ultima fase c'è tutta la oe verde intorno alla mappa e noi appunto come dicevo dobbiamo stare al centro al centro farà queste oe rosse che dobbiamo sempre evitare altrimenti se stiamo un secondo e mezzo sopra queste oe rosse ci muoriamo male eh nel mentre di queste due aoe verde e quelle piccole rosse farà anche tutte le altre meccaniche che abbiamo visto nella prima metà della vita quindi il raggio verde il raggio rosso e il cocoon ok vedete io schivo tutto se siete un dps che mene ad attaccato finché vi trovate al bordo del centro magari lo potete melare se va troppo nel verde se avete qualche colpo da lontano usatelo vedete ok vedete un mele come marco vedete che qui deve stare attento perché potenzialmente lui mene ad attaccato e se sta troppo tempo sopra la oe rossa rischia di morire ok voi potete farlo cioè io se fossi un ladro con raffica del duellante sarei per forza attaccato sopra la oe rossa no? magari ci sto sopra un secondo però me la vado a rischiare per uccidere il cocoon e appena passato un secondo faccio subito la rotolata magari mi salvo la pelle ok gli ho tolto un pochettino e poi magari gli tiro il tunnel vision una volta che ho rotolato ok però allontanandosi si rischia di anche far morire chi è dentro il cocoon ok niente quindi state attenti comunque a questa oe rossa è un po' una rottura perché uno si dice giustamente cavolo ma come faccio a menarlo che c'è la rossa io mi hanno attaccato non sono un mago che spara da lontano come faccio? si fate così lo menate un po' e poi schivate ed eventualmente gli tirate una giornaliera una cavalcatura se ce l'avete da 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 lontano tipo se io rotolo dovrei arrivare tipo qua da qui è abbastanza vicino per tirare il tunnel vision ovvero il fuscamento della vista o il rospo o anche la giornaliera a fare il salto per la giornaliera quindi poi magari si muoiono nel salto ok però tentate purtroppo è così vedete Marco se la rischia poi dopo vabbè ovvio che se c'è considerate che c'è anche le cure dell'iler eventualmente quindi non è che morite al 100% però c'è una bella possibilità che moriate vedete il tank sta andando a prendere tutti i rossi e l'iler ovviamente prende tutti i raggi verdi vedete io cerco come compare la rossa io mi sposto sempre ok fatto no ha tirato il tv io ecco il verde lo sta andando a prendere il chiarico ok qui adesso è tutto regolare vedete io io sto qua lui è nel verde io non posso andare a menare la cioè me la rischio quindi sto qua e gli tiro i coltellini il suolo per terra è utile sicuramente perché comunque cura nel tempo fa delle belle cure eccetera però allo stesso tempo è una rottura perché quando fa le oe rosse piccoline si vedono con molta più fatica ok quindi scegliete voi cosa fare se se fare il suolo l'angelo con l'iler insomma vedete voi vedete qui c'è una rossa però si vede a malapena ditemi del cocoon non so nulla adesso gli mancano due tacche ecco il cocoon vedete io sono sopra la oe rossa io neanche me ne era accorto perché c'era il suolo guardate eh vedete mi giro vado a fare il cocoon e non si vede la oe rossa guardate bene non si vede appena va via il suolo si vede la oe rossa l'ha visto? a meno che non l'abbia fatta dopo ma mi sembrava che ci fosse già in quel caso lì non sono morto magari c'era il suolo per quello poi vedete ha fatto due raggi insieme torniamo indietro prima li faceva una alla volta adesso li fa insieme quindi vanno anticipati tutti e due insieme se l'iler è nel cocoon che ci va da un dps a prendere il verde ok il cocoon non lo farà mai sul tank quello poco ma sicuro ragazzi a me non mi è mai capitato il rosso fregatevene il rosso fregatevene poi esatto quando si arriva tipo sotto le due tacche volendo potete iniziarvi a fregare del rosso ok e fate e pensate ad anticipare solo i verdi volendo prendete solo il verde raga bloccato raga ok no sono morto vede sono morto guardate sono morto perché allora sono full vita ho l'ave rossa sotto i piedi che mi ha fatto danno nel tempo guardate danno nel tempo mi sono preso dall'ave rossa ok no sono stato un secondo e mezzo ragazzi sopra sta ove rossa oh sono morto cazzo libero ok libero 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 artefatti tira 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 artefatti qui ho sbagliato a dire non dovevo tirare non dovevo dire tira gli artefatti perché è lontano è nella è nel verde e noi siamo tre tre dps che mi hanno andato attaccato non possiamo andare cioè magari ci possiamo anche andare però rischiamo di morire perché siamo nell'aula verde ok quindi non dovevo tirare i manufatti se era al centro allora si potevamo tirarli perché mi andiamo tutti da attaccato però vedete se è leggermente spostato proprio al bordo verde e area centro pulita quindi siamo siamo con noi al centro riusciamo a menarlo anche se il corpo è nel verde il verde il verde l'hanno preso il rosso ce ne siamo sbattuti altamente evitiamo di nuovo le oe rosse piccole io adesso per foga vedete manca mezza tacca e queste erano le prime volte ragazzi che lo chiudevo io per foga e fretta di chiuderlo perché tra tutte le volte che ho fallito mi dicevo ok non me ne frega niente rimango sopra la oe rossa penso solo a menarlo sperando che muoia velocemente e invece è sbagliato cioè dovevo stare calmo imparare appunto le meccaniche ovvero spostarmi dalla oe rossa e menarlo ha fatto il cocoon vedete vedete io io mi ha fatto il cocoon e ci gli manca boh non lo so un 25% di tacca non lo so comunque io io dico ai ragazzi uccidetelo pensate a ucciderlo e non venite a fare il cocoon ok però in realtà vedete anche il 1000 è fuori l'altro TR però ripeto erano le prime volte che lo chiudevamo almeno per quanto riguarda il sottoscritto e quindi ho detto menate al boss in ogni caso poi alla fine Marco riuscirà a tirarlo giù vedete proprio manca nulla poi c'è anche il tank healer dentro quindi anche se da solo il dps gli manca veramente poco che lo tirano giù al boss e qui niente andiamo a droppare il nulla perché non c'è nulla non mi da nulla mi da l'anello questo qui che da tank e poi qua di nuovo io l'ho appena rirrollato qua ragazzi guardate mi da vedete sentite anzi e me l'ha ridato assurdo ragazzi va bene quindi niente ragazzi queste sono le meccaniche di Master Toss io spero che questo video vi sia piaciuto spero che abbiate capito bene le meccaniche ho cercato di spiegarvele nel miglior modo possibile quindi niente se avete qualche dubbio fatemi qualche domanda nei commenti eventualmente vi risponderò per spiegarvi meglio la meccanica e niente ragazzi iscrivetevi come sempre lasciate un like come al solito attivate la campanella e ci sentiamo domani con un nuovo video ciao ciao